Però il ministro dell'interno Lamorgese stamattina dalle pagine di Repubblica che parla di un autunno caldo con sbarchi e virus da gestire. Quello che preoccupa di più sono gli effetti del covid sulle aziende e sull'occupazione. In atto un grande sforzo anche da parte della magistratura, dice il ministro, per evitare che tale deficit di liquidità possa essere finanziato dalle organizzazioni criminali. E appunto dopo il braccio di ferro con il governatore della Sicilia Musumeci il ministro chiarisce che il numero dei migranti non è una emergenza. Le autorità tunisine hanno già impedito la partenza di oltre 4.500 persone. Il governo sta lavorando, il ministro riconosce la situazione difficile proprio di Lampedusa. E quanto alla scuola per settembre è stato impossibile spostare i seggi dalle aule, dice Lamorgese, ma prima del voto del prossimo anno troveremo altre sedi così. Dunque il ministro.